Ben ritrovati con la Rassegna Stampa e studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus tornano a salire i nuovi casi, sono 379 in 24 ore. Il 66,4% in Lombardia, ancora 52 le vittime, quello sui morti è il dato più basso dal 2 marzo, quando se ne erano registrati 52 e lo stesso registrato il 7 giugno scorso. Attualmente i positivi scendono a quota 30.000. Digitalizzazioni, l'Italia arretra nella classifica europea, ultima per competenze digitali è solo il 13% all'accesso alla banda ultralanga. Il nuovo rapporto della Commissione dice che il 42% della popolazione ha solo una competenza di base, i laureati in disciplina i Citi sono l'1%. E arranca lo sviluppo della rete veloce. L'entità dell'intervento pubblico messo in campo avrebbe dovuto condurre a risultati ben diversi. Questo lo ha commentato l'amministratore delegato di Infratel, incaricata dell'attuazione della strategia italiana per la banda ultralarga. Notizie da Napoli e dalla Campania. Mastella dice che De Magistris si prepara eticamente a risarcirmi per i danni. Che De Magistris sciolga o meno la sua riserva su se stesso, a me non interessa un cavolo. Non commento le continue e scombinate dichiarazioni come se il mondo intero aspettasse le sue decisioni. Così il sindaco di Berevento e Mastella riguardo le dichiarazioni del primo cittadino di Napoli. L'isola di San Servolo a Venezia riapre i suoi servizi alla cittadinanza e ai turisti che stanno tornando a visitare la città di Venezia e le sue bellezze artistiche. Da sabato 13 giugno e per altri fine settimana del mese sarà aperto al pubblico il Museo della Follia. Ore 10.17, ingresso gratis per i ragazzi fino a 14 anni, dove sono conservati numerosi reperti appartenuti all'ospedale psichiatrico che raccontano una storia singolare e a tratti curiosa di quando la Follia era reclusa e incompresa. Sarà possibile visitare anche la bellissima chiesa del Settecento chiamata dai veneziani chiesa dei due campanelli. Ed è tutto, Massimo Bonella, Venezia per Radio Sayuz. Bene, riprendiamo da studio con le altre notizie sempre su Treviso e il Veneto. Mini prestito a Treviso, un'odissea per avere i soldi. Chiedono la garanzia dei familiari. La denuncia di Consum che dicono i 25.000 euro dovrebbero arrivare subito, ma la burocrazia ed eccesso di zero frenano l'iter. Treviso Covid nel Lab è rivolta dei profughi giallo sulla quarantena dell'operatore. Positivo un ospite della struttura che era rientrato in Italia a fine maggio. Quattro persone sono in isolamento. Morte e carbonizzato. Il sindaco dice non sapevamo delle condizioni di quel luogo. La dubbice tragedia di Castagnolo e di paese. Cati Auberti dice no, non sapevamo affatto che attorno a quella villetta vi fosse accatastrato materiale d'ogni tipo. Tragedia di Castagnolo e sempre su questa tragedia c'è lo strazio della figlia che dice mia madre non meritava una fine come questa. Martina Sandro è avvisata dai carabinieri, è arrivata per prima sul luogo del dramma e ha detto spero almeno che non abbia sofferto. Avrei voluto poterla aiutare in qualche modo. Il virus e i farmaci per i pertesi. C'è uno studio trevigiano che nega le relazioni. La ricerca dei medici trevigiani è stata pubblicata su una prestigiosa rivista. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Tamponi e test Covid, il Friuli Venezia Giulia non abbassa la guardia. La Fondazione Gimba inserisce appunto la nostra regione tra le migliori in Italia per il tracciamento del coronavirus. Il nuovo report elaborato dall'organizzazione indipendente di Bologna attesta come la regione stia procedendo nel migliore dei modi la sua lotta al coronavirus, al contrario di quanto si sta verificando in mezza Italia. Il coronavirus è un nuovo caso in Friuli Venezia Giulia. Purtroppo si registra il nuovo decesso legato al Covid-19. Non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva. Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari sono 176,5 in meno rispetto alla giornata dell'altro ieri. Sgonico, ritrovata all'undicenne scomparsa, dare l'allarme appunto e stare in mano. Nella mattinata presto i familiari che erano preoccupati per la sua prolungata stenza. È stata ritrovata a San e Salva da una squadra di ricerca composta da tecnici del soccorso alpino e speleologico e dei volontari della protezione civile. Nella dodicenne appunto che era scomparsa dalla casa dei genitori a Sales nel comune di Sgonico. Meno male che questa storia è finita bene. Bene, terminiamo questa segna stampa, cari amici, nel Friuli Venezia Giulia facendomi ascoltare un servizio della nostra inviata nel Friuli Venezia Giulia, Sabina Cicotti. Ascoltiamoci questa interessante intervista. Il 10 giugno 2020 si è svolta a Udine, in piazza San Giacomo, la manifestazione pacifica organizzata dai Black Lives Matter. La manifestazione è stata organizzata per ricordare il crescioso accaduto a Minneapolis negli Stati Uniti dove ha perso la vita George Floyd. A questi eventi ha partecipato anche il gruppo Our Voice del Friuli Venezia Giulia. Con noi, Boccali Beatrice, rappresentante del gruppo. Benvenuta Beatrice. Buonasera. Vuoi raccontarci perché era così importante partecipare a questa manifestazione? Per noi di Our Voice era importante partecipare in quanto questa manifestazione per noi non rappresentava solamente il sostegno ai fatti successi in America, ma il sostegno a tutte le minoranze etniche e un po' la spinta per le nuove generazioni a lottare contro ogni forma di razzismo e discriminazione. Bene. Come avete trascorso questo lockdown senza poter manifestare nelle piazze? È stata una cosa nuova per noi perché tutto il nostro movimento si basa sulla comunicazione, sul fatto di confrontarci con nuove opportunità, nuovi giovani, ragazzi e il fatto di non poter comunicare ci ha portato molto di più a vivere il nostro movimento sui social attraverso video online. Ieri è stata una manifestazione bellissima che sono riusciti a organizzare nonostante il periodo di restrizioni, tutti avevamo una mascherina e c'erano tanti controlli, però è andata benissimo e non ci sono state grandissime limitazioni. Bene Beatrice, ricorda agli ascoltatori dove possono trovare informazioni in più riguardo al gruppo Our Voice. Per informarsi sul nostro gruppo basta andare in qualsiasi piattaforma online, in qualsiasi social, siamo su Twitter, su Instagram, siamo su YouTube, su Facebook e da poco su Telegram. Abbiamo anche il sito ufficiale che è ourvoice.it e lì troverete tutte le info. Grazie Beatrice, buona serata. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti, Radio Sayuz. Bene cari amici e con questo interessante servizio della nostra corrispondente dal Friuli, Sabrina Ciccotti, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione. Grazie a tutti.